Il Francavilla aveva dichiarato Mario Tidia alla vigilia della partita con gli abruzzesi. Una dichiarazione fatta per regalare un po' più di carica ai suoi giovanotti di bella speranza o per taumaturgica fiducia. Fatto sta che il campionato è continuato male per il Cagliari. L'1-1 con il Francavilla dopo tre vittorie interne con Tidia in panchina ha mostrato le carenze di una squadra psicolabile, troppo condizionata dalla brutta posizione di classifica. La terz'ultima posizione in classifica ha innervosito il Rosso Blu, che per quasi 30 minuti hanno faticato a raccapezzarsi contro il più ordinato e veloce Francavilla. Il dominio territoriale del Cagliari ha fruttato poco, ma al trentatresimo Coppola ha dimostrato di possedere uno spiccato senso del gol, infilando il pallone alle spalle di Genovese con un colpo di testa di rara precisione. L'ennesima frittata della difesa ha annullato però il momentaneo vantaggio, ha reso più difficile la corsa alla vittoria annunciata con illusoria facilità nell'ambiente rosso-blu. Venuta meno la consueta spinta di Maritozzi, Bernardini non ha saputo rimediare agli errori degli altri centrocampisti, risultando negativo in cabina di regia anche per quella sua mania di tentare serpentine impossibili o colpi di tacco improduttivi e fuori luogo su un terreno al limite della praticabilità come quello del Sant'Elia. Il ritmo frenetico del Francavilla, la sua ordinata e logica disposizione tattica, hanno impedito al Cagliari di portare a casa i due punti, l'hanno inchiodato in una posizione di classifica delicata. Né si può recriminare più di tanto per un atterramento sospetto di Coppola in area di rigore o rimpiangere un paio di conclusioni di Coppola e di Saurini vanificate dall'ottimo portiere abruzzese. I rosso-blu hanno le loro colpe e farebbero bene a farsi un esame di coscienza prima di affrontare il Cosenza, capolista solitario del campionato. Si ha l'impressione che ci sia una evidente sproporzione tra il volume di gioco che la squadra di Tidia riesce a sviluppare e di risultati che è capace di concretizzare. Contro il Francavilla, ad esempio, i rosso-blu hanno tenuto il pallino del gioco per 70 minuti su 90, ma il portiere avversario ha dovuto effettuare soltanto un paio di parate impegnative. Un'ultima annotazione. A fine partita, pochi giocatori del Cagliari hanno ammesso lealmente di aver disputato una brutta partita. Gli altri hanno preferito uno sdegnato silenzio. Un segno di presunzione che è lo specchio fedele del loro rendimento in campo. Un rendimento che ha fatto precipitare il Cagliari in zona retrocessione.